Kat Stevens è stato tra i primi a reagire uno dei musicisti più innovativi con i quali io abbia avuto il privilegio di lavorare la sua arte musicale il suo genio erano l'insegnamento non solo lo spettacolo scritto il cantautore britannico scioccato come moltissimi altri nel mondo dalla notizia della morte di Chick Corea il mondo è più triste senza fratello Chick ha twittato il chittarrista britannico John McLaughlin e poi c'è D.D. Bridgewater che ha definito la notizia devastante la creatività diceva Chick Corea è qualcosa che sta dentro di noi in ogni individuo e si tratta di come la tiri fuori di come la fai passare in modo che succeda le cose non succedono perché c'è una legge o una burocrazia succedono perché ci sono delle persone che creano e fanno delle cose sulla sua pagina facebook Chick Corea aveva lasciato un messaggio ai suoi fan voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo viaggio e che hanno contribuito a mantenere accesi i fuochi della musica spero che tutti quelli che hanno un'inclinazione a suonare scrivere recitare o altro lo facciano se non per se stessi per tutti noi altri non è solo che il mondo ha bisogno di più artisti e anche solo che è un gran divertimento Chick Corea è morto il 9 febbraio ucciso da una rara forma di cancro Grazie a tutti Grazie a tutti